L'ultima produzione di Radio Spia, la casa discografica indipendente con sede a Foggia. Si tratta del nuovo album dei Sis Felix, banda del panorama underground, riunitasi da alcuni mesi. Guardate. Otto minuti di suoni e parole che martellano l'anima, catturano la mente dell'ascoltatore fino a liberarne le paure. Motionless Thinking e Sorrow sono i due brani che rappresentano il debutto discografico di Sis Felix, band foggiana con una storia che affonda le radici nella metà degli anni Ottanta, che riassembla i toni della Dark Wave. Si tratta dell'ultima produzione di Radio Spia, l'etichetta discografica fondata nel 2012 dal tecnico del suono e produttore Marco Maffei. La band è composta dal cantante Roberto Pellicano, dal bassista Sandro Brescia, dal chitarrista Giuseppe Mallardo, dal tastierista Davide Cavallo e dal batterista Matteo Mucciarone. Sono dei testi autobiografici. Mi capita spesso nel mio io di rimettere, di buttare su carta delle mie sensazioni, guardarmi dentro e cercare a spiegare quelli che sono a volte degli stati d'animo. Pensiamo a Motional Thinking che sono pensieri immobili, pensieri che a volte svaniscono nel vuoto e che non trovano soluzioni reali. Siamo figli del post-punk, di quelli che l'hanno creato, gruppi come Joy Division, come Talking Hits, come Bawao, Skir, giusto per citare qualche nome. Lo considero un bellissimo prodotto perché accumula l'energia del basso elettrico, la comprime insieme a delle soluzioni ritmiche veramente possenti e crea una sonorità che è particolarmente attuale, in cui le chitarre si fondono con i sintetizzatori e diventano quasi indistinguibili l'uno dall'altro. Quindi è come avere delle chitarre sintetiche o dei synth chitarrosi, nel gergo poco tecnico e molto dialettico. Dopo il lavoro e studio, ora è il momento del live. Sicuramente sì, con questi giovanotti stiamo preparando questi nuovi brani e vi assicuro sarà uno spettacolo veramente forte. Cercare di preparare dei brani, un misto di cover e inediti, che sappiano fondersi insieme l'un l'altro per creare una nuova omogeneità, un'identità di gruppo che sia riconoscibile. C'è spazio per questo progetto Sis Felix nel 2016? Beh, io penso proprio di sì, me lo auguro, ce lo auguriamo. Tra i lavori di Radio Spia spicca anche una cover di Ashes to Ashes del compianto David Bowie, eseguita dall'open band di Alpha States con la voce di Andrea Chimenti. Alle origini era il cantante dei Moda, un gruppo che abbiamo avuto anche il piacere di vederli anche qui a Foggia. Io ero piccolino, era adolescente, parliamo di metà degli anni Ottanta, anche lì quando insieme Elite Fiba, i Neoni, i Diaframma imperversavano la New Wave Fiorentina, che poi è stata la fucina della New Wave italiana, insieme a Firenze e Pordenone furono quelli che trainarono la New Wave in Italia. Ottimi riscontri, sto tenendo un'altra produzione di Radio Spia, ossia il primo videoclip ufficiale di Madame Butterfly e Mr. Bear, dal titolo My Blue Eyed Guy. Il brano contenuto nel loro ultimo EP omonimo è una dolcissima ballata con la chitarra di Vincenzo Mascolo e la voce di Valerie Mai. Come abbiamo fatto un video un po' matto in cui c'è una sorta di alieno sul lettino che subisce questo canto rabbioso della cantante, che è arrivato già a 5.000 visualizzazioni e a molti apprezzamenti, soprattutto come al solito dall'estero. Sembra quasi un destino il fatto di dover fare delle cose esportandole oltre frontiera. Grazie a tutti. Grazie a tutti.